Perché? Perché quest'oggi dobbiamo giocare un escape con gli egiziani, con le piramidi e sarà bellissimo, va bene? E quindi io ballo le loro canzoni Abbattetelo, vi prego, vi prego! Ragazzi, come va? Io sono Ferinichi E io sono Stef, questo gioco è Escape Story Ovvero, oggi dovremmo cercare di scappare da delle terribili piramidi egizie Non so se sono terribili, però sicuramente ci sarà qualcosa di terribile Ma perché non chiamarlo Escape Piramide invece che Escape Story? Non mi piace sto nome, te lo dico Il nome non mi piace, però l'Escape sarà fighissimo Sembrerebbe a livelli, quindi già prima informazione interessante Andiamo nel primo Ah, ma siamo comunque ai tempi nostri Pensavo che fossimo Che fossimo egiziani Esatto Invece siamo della specie di archeologi, mi sembra di intuire E siamo dei professori Però signorina, lei non ci interessa Quindi i suoi dialoghi si ritenga per sé Noi siamo degli esperti escapatori Quindi sappiamo che le batterie Eppure archeologi Eppure archeologi Eppure architetti Guarda, guarda Tutto quello che serve Lei mi stava dicendo di dover combinare batterie e cose che stavo già facendo Lo sapevamo già Perché ci ha preso Si inizia Allora, questo che cos'è? E' un bastone? Un bastone, un bastone Probabilmente ci servirà per picchiare qualcuno Allora, un altro scarabeo dorato Ci dà dei punti Ah, guarda Opla Abbiamo fatto una palla Allora scava lì Dove c'è questo mucchietto strano No Di un colore strano Nada Mi spiace Non si può? No Dove c'è la legna? No No, 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 no Guarda Vedi? Niente Niente Sto cliccando tutto lo schermo La palla non si usa qui Ah, peccato, peccato, peccato Faccia triste Ta, ta, ta E i due sotto E' super bellino Subito, mi piace Sì, mi piace molto Mi piace, dai, dai, dai Oh, che bello Allora Ok, qua dobbiamo sistemare il puzzle Quindi Gira quello al centro Ma, grazie Guarda, non lo sapevo fare Meno male che ci sei tu, eh Eh, magari non lo sai, capito? Ma guarda Quanto sono bravo Diamante ci hanno dato qua, però Ma qua si fa un soldi, ragazzi Eh, qua sì Usciamo che siamo ricchi Bello Subito un diamante E questo? L'altro scarabeo? No, uso un fiammifero per vedere E prendo Oggi sono in forma No, oggi sei bravissimo Sono bravissimo Lo scarabeo che ha qualcosa Secondo me ci servirà alla fine Sì, secondo me adesso uso Il piede di porco Per spaccare il vetro Ok No Il diamante? Se metti il diamante al posto di quello Così dici Ti rubiamo una cosa Ma ti lasciamo un diamante? No Preferisco il diamante a questa cosa, però Cosa ci manca? Cosa che non stiamo vedendo? Ok, vedi Uh Ok Abbiamo fatto un utensile strano qui Sì, che a sto punto servirà qua No No, ancora no Uh Ah Hai capito? Allora abbiamo creato Con due bastoni Infatti adesso lo spiego Perché altrimenti non si capisce nulla Ho fatto due bastoni Quindi Allora Faccio il tutorial Prendi un bastone Prendi un altro bastone Unisci i bastoni E crei un compasso Con il compasso Metti il diamante Usi il compasso E fai un cerchio Apri il vetro E rubi Io sarei stata per spaccare Cioè dai No, no Questi sono ladri professionisti Anche se siamo archeologi Non si sa perché Ma stiamo scappando o rubando Non capisco Perché è molto sottile Questa linea È molto sottile E poi questo sta ovviamente qua Che l'ho visto fin da subito E si va avanti Torcia Scarabeo Scarabeo Va bene Allora Qui la torcia No Non serve Vediamo Anche io ci avevo pensato subito Allora Qua ci sono delle bilance Ok Un martello Ok Ok Ci sta facendo vedere I due oggetti Che dobbiamo mettere Sì 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 Guardi qua Questi papiri Cioè si possono vedere No Non mi fa cliccare Ma ci sta dando gli indizi Che vogliamo Praticamente dice Che la foglia vale due Ok Mentre quella specie Di oggetto strano Vale sette Non so se li hai visti Eh ma di che cosa Due e sette Ah boh L'ho visto ma non comprendo Forse di soldi Sì Due Due e uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Successo qualcosa Ah no Aspetta Era il contrario Sette due Ah ok Sì Sì in effetti Hai ragione Me ne stavo dimenticando Allora aspetta Che li riprendo tutti Ok E qua due Eh ok Ok Mettiamo questo qua No Non è così semplice Ok Quindi ci manca ancora Qualcosa da trovare Sì Allora riguardo Se ci può essere Qualche altra combinazione Da fare con la bilancia Magari mettendo Il Questo triangolo E altri soldi Non lo so No non mi fa mettere Allora A sto punto C'è qualcosa qua Martello Giusto Fuoco per vedere Anzi per bruciare qualcosa Altro pezzo del triangolo Che combiniamo E adesso ce l'abbiamo Bravi Bravi Ragazzi Formidabili qua Siamo in forma Formidabili Oggi siamo in forma Preparatevi che lo finiamo In cinque minuti Anche se ne sono già passati Pi di cinque C'è un leone C'è un leone Però vabbè Sarà talmente bello Che sembrerà che duri cinque minuti Quindi va bene così Esatto Come fa un leone A parte che è bruttissimo Ma a parte che poverino Ti danno da mangiare qui Cioè non ti vedo messo bene in forma Beh se sta vivo dal tempo degli egizi Ci sta che stia messo così Secondo me è imbalsamato Perché sai che gli egizi Imbalsamavano tutti i corpi E io gli do da mangiare No non posso Qua c'è una ciotola Ma gli stiamo sgobbando anche il cibo Le abbiamo rubato il cibo Esatto Le abbiamo rubato E è andata così amico mio Tu fai l'antipatico E noi ti rubiamo il cibo Ma non ha fatto nulla Lo stai spostando Quando ho il cibo Posso decidere dove sta Ok Capito? Ho combinato le pietre Al frutto E le hai schiacciate Hai schiacciato le bacche? Secondo me ora gli devo rimettere Vedi? Ma che gli stai dicendo? Gli devo ridare il cibo E lui se lo mangia Capito? Ok E l'abbiamo steso Ma poverino Eh oh Abbiamo fatto addormentare Sì certo Sta dormendo Sto dormendo Sì 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 Ah ma un codice strano Allora Ok tipo una sfinge Una foglia Una corda E il mare Fai una foto Fai una foto Secondo me questo serve in futuro Hai ragione E io me lo dimentico al 100% Tanto se lo dimentichiamo anche se serve tra due minuti Formica Foglia Corda Non è una formica È una sfinge Accidente a te Vai fatta È una formica No no sei tu una formica qui Allora Allora dai su È qualcosa qui da qualche parte Ah ok Ho preso un pezzo Ok adesso prova a forzare No No Allora vediamo No Ok Però abbiamo un pezzo di qualcosa di interessante Magari Di nuovo da lui Per liberarlo Ma lascialo in pace Dai che sto pure dormendo Lo stiamo disturbando a due ore e mezza Sembra che lo rimascia in pace infatti ormai Con la ciotola Cliccata in questo punto È successo qualcosa In effetti che era abbastanza ambigua quel pezzo di terra E questo cos'è? Delle volte cerchi ovunque tranne che davanti a te Ah ma c'è poco ma sicuro Proprio davanti ai nostri occhi c'è qualcosa Lo noti da sola? Sì 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 Cioè Cliccando a caso l'abbiamo scoperto come sempre Però cioè Guardate era davanti a noi Incredibile Proprio gli occhi Invece noi Siamo lì di fretta e non vediamo le cose Comunque credo che dobbiamo usare questo Aspetta aspetta Ok Ok Ci servirà sicura Tacchete 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 Ta Ok Vai Vai Allora Aspetta voglio ricordarmelo Formica È una spinge accidenti a te Foglia Ok Aspetta tanto vedendolo me la ricordo Questo E poi Questo Il mare Sì Perfetto Perché non Ah per me era tipo un baballotto Hai problemi con i simboli Con la simbologia È davvero problemi grave L'importante è ricordarli Te lo dico No È davvero problemi Ok Nuovo livello Andiamo avanti Allora qui C'è questo molto utile Qua non possiamo fare nulla Ok Non possiamo usarlo Ok Qua abbiamo preso Cos'è secondo te sale? Sabbia Ok Siamo nel deserto Sarà sabbia Può essere Non è scontato cara È sabbia Qua c'è una bocca La vedi la porta in alto? Ah sì Sì L'ho vista ora L'ho vista ora Ok No In qualche modo la dovremmo tirar giù Sì però per ora non posso Trovato un gancio e una scala E pure uno di quelli scarafaggi Quindi mettiamo la scala qua Carabay Saliamo così Uh Questo è bello Qua c'è un altro oggetto Qualche codice molto importante qui E non possiamo fare nulla? Non lo so No Ok No che era? No ho messo un oggetto nella bilancia Vedi? Ok vabbè ci ha dato quello Non so come Bravissimo Bravissimo Ci ha fatto a casa Ma dovevo trovarlo da qualche parte io questa cosa Sicuramente Invece ho cliccato a caso Sicuramente Vabbè Ok comunque ci ha dato un altro oggetto Però hai notato che lì C'è segnato Centrale Centrale basso Dove? Nella foto davanti a te Cioè nell'immagine dello scarabeo Ah sì lo vedo Lo vedo Lo vedo Memorizzalo Ho fatto qualcosa di strano Hai diviso qualcosa? Ma ho fatto una roba incredibile E adesso? Allora con calma Allora ho giunto Aspetta Che cosa stai combinando? Mio dio Sto trippando tutto Ah quello che ci può servire Adesso questo si mette così Sì Ok E qui bastoncini Di mettere nei buchi Tacchete Tacchete Non ho capito come hai fatto Ma bellissimo Vero Un'emozione incredibile Vero che è stato Tutto cliccando a casaccio Ma perché tu ormai? No Io sapevo tutto Ti dicevo ormai È lo spirito degli escape dentro di te Quindi anche se clicchi a caso È perché la tua mente che ti guida La mente superiore Capito? Ma guarda che Avevo una voce dentro di me Che mi diceva cosa cliccare Allora mi sa che non stai tanto bene Senti le voci No no Ti inizi a sentire le voci Qui abbiamo qualche problemino L'anima di un faraone Si è impossessata del mio corpo Oh no Adesso sono Steffi il faraone Ma smetti di prego Dai Ciao cammello Abbiamo iniziato così bene Eravamo così seri e carini E poi dobbiamo sempre degradare qua Vai E ma a me piace così Allora dobbiamo liberare il povero cammello Senza dubbio Lo so io È il nostro destino Siamo nati per liberare i cammelli Assolutamente Qua c'è qualcosa di nascorso Una mappa Ok Tre palme Una X Allora Quindi praticamente saranno tre Quattro passi in avanti Da questa Cinque No uno due tre E c'è la X Dalla prima palma Capito La prima palma a sinistra No perché Tutti in basso a destra C'è l'ago dove noi siamo Quindi sei passi a sinistra Allora dall'ago uno due tre Quattro cinque sei Ok vai No Giusto Vai Sì Ma non possiamo Qui quindi è qui Perché non ce lo puoi vedere Perché secondo me dobbiamo farli col cammello Perché nel deserto ti muovi col cammello Ok Quindi devo buttare Ho preso qualcosa Non so cosa La corteccia Aspetta aspetta Corteccia di palma tipo Sì Utilizzando La sciabola che abbiamo trovato A questo punto Abbiamo una rete Che serve per forza per il cocco Ok Ho fatto Hai visto Un cosa per acchiappare E ho preso un cocco Ok Adesso Con il cocco spacchiamo il lucchetto Io ci provo Però secondo me non funziona No Neanche con la corteccia Neanche con la corteccia No Ok Vediamo qua Spim spaccata E adesso Che ce ne facciamo E adesso la proponiamo a lui Tieni mangia Bello No non gli piace Non mi frega proprio nulla Non possiamo neanche combinare i due oggetti E quindi Forse la riempiamo d'acqua e diamo da bere Sì Ha senso Adesso le la diamo Ok Si rialza Abbiamo preso un oggetto molto strano Si può usare per aprirlo No Eravamo così in forma Ma abbiamo dovuto cedere Abbiamo dovuto controllare su internet Come si faceva questa cosa Allora Io non ci sarei mai arrivata Te lo dico Neanche io Cioè io pensavo Che ci dovessimo muovere Lontani Per effettivamente Se voi guardate la mappa Qua dice in basso a destra Che c'è il lago Esatto E queste sono le tre palme Che noi abbiamo davanti agli occhi Io li immaginavo Vedete Sì No avevo intuito fossero quelle Ok Però pensavo dovessimo proprio fare dei passi E arrivare in quel punto Invece bastava stare Invece bastava E abbiamo pensato troppo in grande Dai troppo A da muoverci Invece era più semplice Ok Mettiamo questo qua Qua c'è la chiave La chiave la liberiamo finalmente Liberiamo il nostro amico Dromedus Il nuovo nome E ce ne andiamo insieme a lui Eee Ma questa è una super tenda Ultimo livello che facciamo Sono davvero tanti Non sappiamo neanche quanti Perché iniziamo gli escape Senza neanche sapere quanto sono lunghi Giustamente Dobbiamo vedere un po' Mentre li facciamo Esatto Però credo che poi lo finiremo In un altro video Se vi piace Altrimenti rimarrà Una storia incompleta Del Dromedus Ok Lascia l'impatto E del leone che ancora dorme Allora Qua subito No Ci torniamo dopo Stavo scherzando Non ho la più palliniera Di come si faccia Il libro Non possiamo prenderlo No Però secondo me Dà qualche combinazione Sui colori Vedi Blu blu giallo Magari è la stessa cosa Dell'altro Allora Di sicuro Dice qualcosa Ma per ora Non riesco a capirlo Anche questo Anche questo Allora mi sta già venendo Da vomitare Magari dobbiamo trovare Quella Che ci serve Allora Fammi vedere i colori Di quello Fammi un attimo esplorare Ok Stai calma Quello poi andiamo a risolverlo Vedi Di nuovo Servono a qualcosa sicuro Torniamo qui Allora Provo a muoverli Cambiano colore Sì certo Un bambino speciale Come no Che salverà tutti Ok Come no Allora Magari grazie a questa combinazione Abbiamo fatto nascere Mosè Allora muoviti Stai dicendo solo stupidaggini Quindi muoviti Perché sennò da qui Non usciremo mai Ma io non so che fare amica Allora Proviamo a seguire questi schemi Perché secondo me Non è un caso Che abbiamo questi schemi Anche se sono di diversi colori Vai io non sto capendo Io proverei a mettere Tutti i rosa in alto a sinistra Ok Tipo va lì Vedi Tutti questi rosa No il rosa in alto a sinistra Quindi così Così esatto E vai tutti così Tanto cioè Non mi sembra si possono combinare Queste tre cose Questo era giusto Ok Ok Cambia Però aspetta Il colore di quello che abbiamo Che trip è Non lo so Sei confuso No Praticamente è diventato Del colore dello schemi Ho capito tutto Allora Questa F sta rimanendo Giusto così per compatirti Perché io sono già andato oltre Aspetta un attimo Sto già facendo livello 11 Zitto un attimo Mi stai deconcentrando Allora se seguiamo questa logica Il secondo che abbiamo trovato È quello nel tappeto Mi pare Ok Io proverei qua Non questo Abbiamo trovato prima quello nel tappeto Secondo me Ehm E rimettiamo No Come colori No 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 Come colori dobbiamo fare questo No perché non abbiamo il giallo Riprova il rosa Riprova il rosa Ok Non so perché dovrebbe funzionare il rosa Non c'è mi sto intrippando Non vedo più neanche i colori Guarda Ok è andato Ok Non ho capito per secondo quale logica Però è andato E quindi l'ultimo è il giallo Sopra No il celeste è sopra Non era il giallo Non era il blu Era questa specie di macchiolina Vedi che c'è un altro colore diverso Ah ok Non l'avevo visto Appena me sono accorto ho provato con quella Tanto Per me non ha la logica Non ha la logica Vanno un po' provati a caso Come abbiamo fatto Abbiamo un coltello Ah così Ok Il coltello si mette qua per limarlo No Ok Il coltello si mette qua per buc... No Ah certo Ho cliccato una pubblicità per sbaglio vero? No Ok Qui Buchi qua e te ne vai No Esatto Allora Allora No è davvero complicato questo livello Qui No Non lo so Non comprendo Uh L'hai riempita Ah ok Questo è un secchio d'acqua Sembrava più polvere da sparo Adesso metto a bollire l'acqua Esatto Metto la lama dentro No Per niente Però ok Abbiamo messo dell'acqua a bollire Già qualcosa Già qualcosa Ah Hai visto? Si è bruciata questa zona E ho preso un attrezzo Per far funzionare questo Ok Per farlo funzionare Mettiamo l'arma E adesso è limata Con l'arma limata Secondo me possiamo Bucare qua E ce ne andiamo Bravi Abbiamo ripreso bene Bravissimi 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 Mamma mia Faticaccia Faticaccia È stato un allenamento al cervello Davvero interessante No davvero Molto bello Molto 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 figo Molto bello Mi piace Mi chiedo se dobbiamo andare in un'altra piramide Con i prossimi livelli Comunque questo che abbiamo fatto era L'ottavo livello Sembrerebbero 16 Abbiamo controllato il volo Quindi teoricamente Siamo perfettamente a metà Sondaggino classico Per farvi vedere Cioè per decidere se farlo Esatto E continuarlo Altrimenti Dai continuiamolo Che bellissimo Continuiamolo Io spero di sì Consulini Perché secondo me qua ci sono ancora tante cose a fare E magari per una volta Non solo scappiamo Ma ci becchiamo un bel tesoro Perché effettivamente Anche perché poi questi scarabai dorati che stiamo collezionando Secondo me Quattro Effettivamente Noi non stiamo scappando Quindi perché è un escape Allora Cioè ogni volta Andiamo noi in un posto E poi scappiamo dal posto dove andiamo Cioè come Allora sono di quelle domande esistenziali Che non ti devi mai fare È come se tu mi fai E andiamo dal McDonald's Appena entriamo tu scappi È un po' quello che succede sempre Capito? No non succede Nel senso Bene che ci riesci così Bene che ci riesci così Stai giocando Stai giocando i like No Bene che ci riesci così Stai giocando i like E se è la prima volta che ho avuto il nostro video Potete considerare Di iscrivervi Per non perdere i video Di altri episodi Ciao E alla prossima Ciao ciao Ciao